Scopri le sorprese di Natale di oggi che il cast di Violetta ti dedica in esclusiva. Ciao ragazzi, vi auguro un buon Natale con tutto il mio affetto. Scoprite la sorpresa di oggi. Gregorio vuole chiudere lo studio. È vero, abbiamo parlato con lui, ma non ascolta. Noi parliamo, ma lui non capisce, non sente ragioni, non si può. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per trovare una soluzione e andare avanti. Ci hanno già tagliato la luce, internet e l'acqua, tutto. Manca solo che ci tagliano le unghie e poi siamo a posto. Lo studio è senza luce e acqua, niente. Ti prego, dobbiamo trovare una soluzione. Potresti accompagnarci allo studio. Gregorio ha rifiutato l'aiuto di Germán, non è tenuto venire. È vero, ha rifiutato il suo aiuto, ma se troviamo una soluzione e gliela proponiamo, non rifiuterà. Ma se le cose stanno così è inutile, non c'è altro da fare, Angie. Invece c'è molto che possiamo fare. Germán, ti prego, lo studio ha bisogno di te. Fallo per Violetta, per i ragazzi, per tutti noi. Lo studio non può chiudere, non torno per me, va bene? Sì, sì, vado anch'io. Ciao. Segui la programmazione di Disney Channel per scoprire le altre sorprese di Violetta.